ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale questa storia in questa settimana ci trasporta nella realtà più buia e profonda della psiche umana e sul confine che divide la malattia mentale da quello della possessione demoniaca è un caso quello di oggi conosciuto condiviso ma taciuto allo stesso tempo perché alimenta paure e incomprensioni lacera e divide chiunque ne venga a conoscenza persino i membri della chiesa cattolica che si formano ancora oggi un'idea sul caso ma chi fu lì in quell'abisso coloro che furono presenti agli esorcismi di Anne-Lise Michel coloro che registrarono e presero nota di ciò che avvenne hanno lasciato a noi una testimonianza che genera molti dubbi e poche certezze la vicenda di Anne-Lise Michel sconvolse l'opinione pubblica tedesca espirò moltissime pellicole cinematografiche e libri sicuramente il film più famoso che io in passato ho guardato anche diverse volte ma che ad oggi non riesco più a guardare perché mi terrorizza è l'esorcismo di Emily Rose ma questo video sarà ancora peggio perché questo video parla della realtà dietro il film che cosa è accaduto davvero ad Anne-Lise e perché le rivelazioni del demonio furono pubblicate solo molti anni dopo la conclusione degli esorcismi lo scopo del mio canale non è rispondere a quesiti che non mi competono ma come sempre raccontarvi la storia di qualcuno che merita di essere ricordato e quel qualcuno è Anne-Lise Anne-Lise è la prima di quattro figli nasce in Germania il 21 settembre del 1952 nella cittadina bavarese di Klickenberg ora perdonatemi ma io sono un disastro mi impegno tanto ma davvero il tedesco faccio molta fatica a pronunciarlo una località questa profondamente religiosa anche la sua famiglia è molto cattolica di stampo tradizionalista bevetevi tutte queste informazioni perché in questo caso ognuno si deve formare una propria opinione ma bisogna guardare questa storia proprio da tutte le prospettive il padre di Anne-Lise Iosef proviene da una vecchia famiglia borghese e artigiana e la madre di Iosef aveva un sogno che uno dei suoi figli divenisse prete poiché le sue tre sorelle ad eccezione di lei erano divenute suore aveva quindi questo grande desiderio cioè che suo figlio divenisse prete ma non fu così perché Iosef diventa apprendista falegname nell'attività di famiglia e poi si arruola combattendo sul fronte occidentale orientale durante la seconda guerra mondiale rientrato in patria frequenta la scuola di edilizia a monaco di baviera e supera l'esame di mastro artigiano nel 1948 al fine proprio di prendere le redini dell'attività di famiglia la madre di Anne-Lise invece Anna Michele conosce Iosef mentre lavora come impiegata nell'ufficio di suo padre il loro è un fidanzamento combinato questo matrimonio viene combinato tramite la diocesi di woodsburg e l'organizza la nonna paterna di Anne-Lise quindi la madre di Iosef i due giovani si sposano nel 1950 ma c'è un ma Anna la madre di Anne-Lise aveva già una figlia illegittima nata due anni prima nel 1948 ciò alimentò diverse voci molte voci secondo cui addirittura il matrimonio fosse avvenuto come forma di riparazione e che la famiglia Michele avesse ricevuto una sorta di pagamento per questo sodalizio matrimoniale ma circolarono anche altre voci una di queste affermava che la bimba nata illegittima fosse figlia di un prete quale scandalo la piccola purtroppo e questo fu preso come segno del divino quindi di una punizione divina ricordatevi la parola punizione morì nel 1956 alla tenera età di otto anni per un tumore ai reni ed essendo una figlia illegittima non venne sepolta nella tomba di famiglia ma in una tomba separata lontano lungo il muro di cinta del cimitero oltre ad Anne-Lise ci sono altre tre figlie femmine nate dall'unione di Iosef e di Anna e queste figlie nascono l'una dopo l'altra una nel 1954 una nel 1956 e una nel 1957 nonostante questo grande fervore religioso che accompagna la famiglia e che guida la famiglia l'infanzia di Anne-Lise viene descritta come un'infanzia normale e serena seppur fin da piccola abbia sofferto di problemi di salute sia stata sempre di salute cagionevole è spesso ammalata e mostra un fisico poco resistente alle malattie frequenta la scuola elementare a Klingenberg e poi il ginnasio dove è un membro sportivo e prende anche lezioni di pianoforte fisarmonica è una ragazza solare che trascorre le sue giornate suonando soprattutto cantando perché adora cantare le piace stare in compagnia è socievole ed è molto devota fin da piccola manifesta il desiderio di divenire una catechista frequenta la chiesa anche grazie alle direttive genitoriali certo legge le sacre scritture racita il rosario segue gruppi di preghiera ma quello che fa anche e questo io ve lo devo dire è dormire occasionalmente a terra per espiare le colpe degli altri analise lo scoprirete è legata al concetto di colpa ed espiazione fin da bambina attraverso la penitenza inoltre ama fare caritativa ed esibire forme di pietà religiosa di varia natura nonché discorsi molto grandi per una bambina come già il concetto di evangelizzazione chi la conobbe davvero la descrive come una ragazza normale gentile e generosa a scuola è diligente ha un ottimo rendimento è lodata dagli insegnanti e è anche molto graziosa il suo aspetto lo potete vedere in foto è femminile è molto attraente noi però non possiamo conoscere le sue sfumature ma ce le possono solo raccontare non è una ragazzina ombrosa ma quando parla è gioiosa trasmette serenità è molto diretta al tempo stesso riservata non ama parlare molto di sé fino ai suoi 16 anni la vita è tutto sommato dolce equilibrata e il futuro a portata di mano ma poi analise inizia ad avere problemi di salute questa volta dei seri problemi di salute nel settembre del 1968 viene colpita da un primo attacco epilettico sviene a scuola e si risveglia solo molte ore dopo nel suo letto si sente paralizzata bloccata non riesce a muovere gli arti la lingua è gonfia e le fa male e mentre si rende conto di tutto questo rilascia la vescica un altro attacco di questo tipo avviene pensate dopo un anno quindi per un anno enlise è convinta che sia stato soltanto qualcosa di strano di incomprensibile che le sia capitato ma che non avverrà più non fu così nel 1969 un anno esatto dopo un nuovo attacco epilettico questa volta le viene fatto chiaramente un esame neurologico e un retroencefalogramma e qui le viene diagnosticata una rara forma di epilessia poco tempo dopo ad aggravare il suo quadro viene colpita anche da una grave malattia polmonare e ricoverata nel 1970 in un sanatorio per malati di tubercolosi a mittelberg durante questo soggiorno che di fatti è forzato è un ricovero vengono registrati diversi episodi convulsivi e sempre qui secondo una fonte diretta ebbe per la prima volta allucinazioni uditive e visive parliamo più nel concreto enlise sentiva delle voci maligne sussurrarle all'orecchio e le facce delle persone che la circondavano erano trasfigurate da molti demoniaci vi devo precisare però che enlise non ne parlava di questo a quanto pare forse era spaventata perché nelle sue lettere che arrivano a casa non c'è traccia di questi episodi anzi commenta i suoi attacchi epilettici in maniera obiettiva e lucida e non allude mai a discorsi mistici o sovrannaturali dopo il suo rilascio prova a riprendere i suoi studi al liceo di Aschaffenburg ma avendo perso molte lezioni viene trasferita in un'altra classe e per lei questo fu un durissimo colpo a causa di ciò inizia a soffrire di depressione si isola e il suo rendimento scolastico che prima è eccellente cala drasticamente in tutto questo la sua adolescenza viene plasmata dalla rigida disciplina di casa la madre era molto severa le proibiva di avere troppi contatti con il suo primo fidanzato di partecipare a balli feste e andare in visita agli amiche nella primavera del 1973 enlise inizia a lamentarsi di fatti strani che avvengono nella sua camera sente bussare in continuazione da dentro l'armadio dal pavimento e dal soffitto continua a sentire queste voci voci che le parlano direttamente dagli inferi a settembre del 1973 stravolta prova a parlarne con un medico che ipotizza un inizio di psicosi paranoide sempre in quest'anno nel 1973 si fa letteralmente schiacciare da ansie e timori di fallimento riguardanti la scuola riuscendo a fatica a superare l'esame di maturità è andata completamente in tilt in questa prima fase del suo malessere anlise inizia ad assumere dei medicinali per curare l'epilessia e anticonvulsivi ma nonostante questo i suoi sintomi continuano a peggiorare tra i primissimi sintomi fisici inizia a manifestare paralisi degli arti uno smisurato accrescimento del suo torace rigidità improvvisa del corpo e l'impossibilità a parlare cioè il cosiddetto stupor catatonico ha comunque progetti per il suo futuro la sua mente continua a pensare avanti e si iscrive nell'inverno del 1973 nel nuovo semestre all'università pedagogica di wurzburg alloggiando al ferdinandum un seminario di studi cattolico con annesso dormitorio anlise vuole divenire insegnante di religione nella scuola elementare ed è il suo grande sogno mentre alloggia in questo dormitorio e frequenta il liceo si innamora del suo primissimo fidanzato e l'unico amore della sua vita peter insel che non la lascerà mai nemmeno quando è impossibile starle accanto senza tremare anlise continua a pregare incessantemente ma cerca anche di capirne di più a livello clinico della sua patologia per questo mentre si trova in università decide di farsi visitare nel policlinico neurologico universitario durante questa visita dichiara di aver sofferto di attacchi quasi quotidiani da circa un anno ma che queste crisi non si verificano con vere e proprie crisi epilettiche ma piuttosto da crisi epilettiche non compulsive cioè quelle che vengono definite assenze in cui lei perde per un breve periodo il contatto con la realtà le viene diagnosticata una depressione nevrotica in progressione e la diagnosi di epilessia viene confermata ancora le viene fatto anche un nuovo eeg un elettroencefalogramma che rivela un danno cerebrale nella regione temporale sinistra che molto probabilmente dà origine a questi attacchi continua ad essere devota e a pregare incessantemente per la sua condizione ma anche per quella degli altri analyse sta sempre peggio nonostante questo supera con successo l'esame per conseguire la licenza di insegnamento della religione cattolica nelle scuole tedesche il titolo della sua tesi è la rivalutazione del timore come compito pedagogico religioso ma è ridotta talmente male che fatica a lavorare o anche solo a pensare di poter lavorare come insegnante dal 1970 quindi abbiamo questa ragazza analise che sta molto male prende dei farmaci anticonvulsivi antiepilettici e li prenderà fino alla fine del suo percorso questi farmaci avrebbero dovuto chiaramente ridurre il rischio di avere queste crisi e di stabilizzarla la terapia farmacologica aveva volte degli effetti benefici ma altre volte era come acqua fresca e non aveva alcun effetto su di lei non so se avete mai sentito parlare di patologie farmaco resistenti forse questo è il caso di analise ma ora signori miei entriamo nel terreno dell'ignoto e dell'inesplorato e le ombre si allargano su questa storia e su analise noi ci potremmo fare d'ora in avanti tante domande ragionevoli e altre molto meno ragionevoli possiamo chiederci ad esempio come si curava prendeva davvero sempre farmaci era seguita da qualcuno di competente che l'aiutava nell'assunzione della terapia questa ragazza sta male ed è davvero un mistero per tutti è devota prega tanto e la sua famiglia è molto religiosa e tutti pensano che abbia una patologia clinica certo ma a un certo punto la convinzione che si fa strada nel cuore di tutti è un'altra la scienza non sta dando le risposte sperate si cerca per forza una motivazione a tanto dolore e a tanto male ma come si arriva a pensare alla possessione demoniaca ora ve lo spiego il padre di analise ve l'ho detto è molto devoto appartiene ad un gruppo di preghiera che fa dei pellegrinaggi anche all'estero anche in italia decide quindi per farla svagare e anche per aiutarla di portare analise in territorio piacentino qui in italia alle porte della cappella di san damiano luogo di culto mariano ma è qui che la guida del pellegrinaggio si convince che analise sia stata toccata dal maligno la ragazza sta male manifesta disprezzo e avversione verso gli oggetti sacri durante il viaggio in pullman è una presenza inquietante che genera ansia abbandonata tra i sedili inizia a parlare con una voce dal timbro marcatamente maschile mentre una puzza insopportabile si sprigiona dal suo corpo tanto che sono tutti costretti ad abbassare i finestrini per poter respirare arrivati al santuario se possibile le cose si mettono ancora peggio analise in preca contro gli oggetti sacri urla maledizioni si aggrappa a tutto ciò che trova per non entrare all'interno della cappella suo padre tenta di aiutarla ma lei urla che i piedi le vanno a fuoco le bruciano è come se il terreno sotto di lei fosse stato dato alle fiamme sono tutti sconvolti e pare che la guida di questo pellegrinaggio abbia preso da parte analise e l'abbia incentivata a valutare l'ipotesi della possessione quindi la ragazza tornata a casa decide di chiedere un parere ad un prete che però non ravvede in lei i segni della possessione evidente ormai però come si suol dire il seme è stato gettato ann leese ma anche la famiglia si convinsero di dover cercare aiuto piuttosto nell'ambiente religioso e quindi viene organizzato un incontro con un personaggio chiave di questa storia padre erst alt che inizialmente però convince la giovane a continuare ancora il suo percorso medico le condizioni fisiche e psichiche della giovane donna continuano a precipitare in un vortice di orrore indescrivibile io non vi sto raccontando una favola queste sono cose davvero avvenute analise continua a distruggere ogni oggetto religioso che le capite a tiro come rosari crocifissi quadri inizia a mutilarsi e ad aggredire la propria famiglia con morsi e percosse mangia insetti di vario genere sino a staccare con i denti e ingurgitare la testa di un uccello morto si strappa i vestiti a brandelli cammina quattro zampe guaendo come un cane per poi urinare sul pavimento e leccare la sua urina da terra la famiglia è disperata alcune parti del suo corpo poi si gonfiano in maniera innaturale come il torace le mani sono gonfissime quasi nere analise non riesce a dormire alla notte perché è disturbata dalle voci e da un orrendo fettore che sente che si sprigiona nella sua stanza poi vede volti demoniaci alle pareti intorno a lei e sente ha questa sensazione di una forza sovraumana che la inchioda al letto con il suo peso e la paralizza la famiglia riporta che un giorno analise a cena improvvisamente alle mani nerissime e gonfissime lei disse ho le mani nere mio salvatore perdonami vedo facce diaboliche sulle pareti hanno sette corone e sette corna analise nei rarissimi momenti di lucidità e di tregua matura l'idea di dover espiare le colpe dei propri peccati e anche di quelli che ama ma non soltanto per questo inizia e pretende di dormire a terra sul letto di pietre ci dormirà per tre anni dorme lì come penitenza durante i ricoveri in ospedale i medici possono solo imbottirla di tranquillanti e alimentarla forzatamente perché inizia anche a non mangiare più il suo rifugio è la fede analise prega in continuazione prega anche in ospedale i genitori tornano a rivolgersi per lei al vescovo locale e ancora una volta egli li invita ad andare degli specialisti a seguire un percorso medico soprattutto quindi la richiesta di avere un esorcista perché questa è una richiesta che fa la famiglia inizialmente viene respinta ma poi vedendo che la terapia non sortisce alcun effetto che analisa una particolare avversione per gli oggetti religiosi che è una forza fuori dal comune anzi dell'umano che sempre più spesso parla le cosiddette lingue morte come l'aramaico il latino e il greco antico con maestria decisero nel settembre del 1975 di autorizzare i due sacerdoti due esorcisti padre erst alt che già conosceva la situazione e la famiglia analise e padre arnold rentz a compiere un primo esorcismo su analis michel secondo il rituale romano del 1614 un exorcismus probativus ovvero un esorcismo di prova questi preti iniziano a conoscere meglio analise e assistono alle manifestazioni della sua condizione questo è ciò che raccontano loro raccontano che analise non riusciva a parlare e a camminare e spesso si trascinava aggrappandosi ad armadi e tavoli un attimo dopo mentre non riusciva a stare in piedi veniva scagliata a terra con violenza come spinta da una mano invisibile anche per ore e ore proviamo ad immaginarci una scena come questa vengono i brividi soffriva tantissimo saltava in piedi velocemente poi veniva battuta a terra come una canna piegata dal vento ad ogni ave maria pronunciata cadeva a terra e sbatteva la testa con il tonfo di un cocomero che si schianta sul pavimento la madre anna prova in tutti i modi a ripararle la testa con dei cuscini e dei piumini ma analise riesce a cadere sempre sulla dura pietra gli esorcisti dichiarano di aver sempre incentivato analise a continuare le terapie e le visite mediche e chiedevano spesso alla giovane cose come il dottore che cosa ti ha detto che diagnosi ti hanno dato analise e lei rispondeva di avere qualcosa di simile all'epilessia ma che non era epilessia poi diceva non posso sposarmi perché devo prendere tante medicine e potrei essere un pericolo per i figli che verranno il primo luglio del 1975 ricordate questa data cioè la data del primo luglio decidono di fare un primo tentativo di esorcismo il cosiddetto appunto esorcismo di prova ve ne ho parlato poco fa sono presenti padre renz padre erst e altri preti che affiancano il rituale padre herman e don abigail non so dirvi se è già presente anche il dottor richard rot ne parleremo poi però a un certo punto del percorso anche un medico affiancherà gli esorcismi un esorcismo di prova viene fatto quando tu non sai esattamente cosa non vada in una persona e devi capire se si tratti di possessione davvero o solo di malattia psichica viene dato in sostanza un comando spirituale ma con il pensiero non si muovono le labbra negli occhi e non si fa alcun gesto quindi l'esorcista pensa dentro di sé esci da lei ed il tuo nome quel giorno a sorpresa anne lee's reagì e questi presunti demoni dentro di lei iniziarono a parlare l'esorcista precisa che un epilettico non si comporta così la ragazza salta su in aria come una furia e afferra il crocifisso del prete facendolo a brandelli inoltre le chiedono di pregare ma lei non riesce a pregare è un segno per loro purtroppo questo esorcismo di prova per gli esorcisti e per la famiglia ha dato un esito positivo a quanto pare anne lee's è davvero posseduta viene riferito tutto alla curia e padre rense l'esorcista più anziano e con più esperienza è colui a cui viene affidato l'onere di esorcizzare anne lee's nonché di divenire la sua guida spirituale il vescovo dà l'ordine bisogna compiere su anne lee's un primo esorcismo minore la data scelta è un mese dopo il primo agosto del 1975 anche qui i demoni iniziano a parlare però da soli senza aver ricevuto alcun comando tutti sono molto spaventati e c'è molta tensione perché non sanno che cosa sarebbe successo di lì a poco i vostri nomi dopo una lunga negoziazione scoprirono con orrore che i demoni che possedevano a quanto pare anne lee's erano sei e non erano entità malvagie da poco ma erano demoni molto potenti i più potenti tra le legioni del male nerone caino giuda hitler fleischmann e niente di meno che l'angelo caduto lucifero questi nomi scioccano profondamente i preti presenti in quella stanza inoltre c'è dello smarrimento perché nessuno conosce fleischmann nemmeno gli stessi esperti nemmeno i preti stessi si scoprirà più tardi che si tratta di un prete dannato un sacerdote tedesco vissuto nel 1575 donnaiolo e ubriacone condannato per molti crimini tra cui rapina e assassino nessuno conosceva questo prete questo personaggio storico questi qui quindi non sono gregari ma sono l'incarnazione del male assoluto tutto ciò che è negativo corrotto infinitamente demoniaco così essi iniziano a parlare attraverso anne lee's mentre anna la madre di anne lee's inizia a stenografare essendo in grado di farlo ma ben presto sono costretti a passare alle registrazioni in cassetta perché le parole che escono dai demoni sono così veloci che è difficile trascriverle anne lee's dà il suo consenso alle registrazioni perché pensa che sia giusto che il vescovo il mondo conoscano il contenuto di quelle rivelazioni delle registrazioni e di ciò che alberga dentro di lei queste registrazioni sono uno shock per coloro che li ascoltano le voci che escono dal corpo di anne lee's sono inumane e ascoltare le voci di questi presunti demoni che la tormentano è qualcosa di davvero sconvolgente io non non ve le faccio sentire però se riesco vi metto qui sotto nella tendina il link perché su youtube potete tranquillamente trovarle ci sono un sacco di documentari o proprio anche soltanto le registrazioni da poter ascoltare con i sottotitoli le voci sono voci maschili diverse fra loro gutturali e cavernose come graffi sulle pareti l'angelo caduto lucifero racconta questo qui dentro non c'è mai la pace la pace solo lassù qui non c'è mai pace mai per l'eternità e il prete gli chiede ma perché non puoi andare dove c'è il creatore per noi non c'è ritorno i preti raccontano che furono testimoni di eventi terrificanti perché questi demoni agivano in maniera davvero crudele su analise provenivano dalla giovane queste urla continue e agghiaccianti alternate a parole di analise che tenta di esprimere il suo dolore analise dice sono tanto spaventata non riesco a dormire oppure stanno saltando laggiù nel pavimento non li vedi gli occhi della ragazza durante l'esorcismo diventano neri con le pupiglie completamente dilatate oppure iniettate di un rosso vermiglio e pesantemente infiammati è aggressiva oltre ogni dire calcia morde strappa fa pezzi ogni rosario le si porga si nutre di molti insetti come ragni e scarfaggi e beve la sua urina ve l'ho già detto poi si arrampica sui muri e si distrugge le unghie tentando di scalare le pareti emette suoni ringhi lamenti mostruosi è coperta di lividi sempre di più il colore della sua pelle varia dal pallido al verde al viola gli occhi sono così gonfi così pesti che ha malapena si riescono a vedere le pupille i denti sono scheggiati o rotti dai continui e molteplici attacchi alle pareti anche con la bocca cioè analise tentava di mordere il muro la meravigliosa bellezza di quella giovane donna sfiorì divenne un corpo danneggiato abusato che aveva sempre meno parvenze umane anche chi la conosceva molto bene la osservava sconvolto non riuscendo più a ricordare come fosse stata un tempo quando stava un po meglio e non si nutriva di insetti analise accettava di mangiare pochissime cose qualche volta una banana e tutti i giorni l'eucaristia fine secondo il racconto di padre erstalt che è colui che è stato più intervistato dopo la fine della della vicenda di analise lui chiese più volte la famiglia di ricoverare analisi in un ospedale psichiatrico alla famiglia si opponeva a un certo punto loro pensavano davvero che il ricovero non potesse aiutare analise e temevano che il suo futuro come insegnante sarebbe stato per sempre compromesso nei suoi pochi momenti di tregua analise continua a offrire sacrifici al signore per spiare i peccati come vi ho detto arriva anche a dormire a terra sul letto di pietroni o sul pavimento in pieno inverno fa penitenza per se stessa per i suoi familiari ma anche per i sacerdoti ribelli le persone tossicodipendenti e i giovani analise riferisce in maniera precisa che ciò le era stato chiesto direttamente dalla vergine maria con cui ha un rapporto speciale la vergine maria le dà continui segni e indicazioni e presto lo vedremo le sarebbe addirittura apparsa fallito ogni proposito di affidarsi a delle valide cure mediche nel frattempo il vescovo da mandato padre renze di eseguire un primo esorcismo maggiore un esorcismo completo un esorcismo maggiore ha lo scopo proprio di scacciare via i demoni da individui presunti posseduti dal primo esorcismo maggiore che fu eseguito su analise il 24 settembre del 1975 fino alla fine di questa orribile storia sulla giovane vennero eseguiti 67 esorcismi in circa dieci mesi dalla seconda seduta fu tutto documentato con un registratore tra i motivi individuati circa la possessione di analise sul perché analise fosse posseduta gli esorcisti capirono che si trattava di una possessione di tipo espiatorio questo lo disse proprio uno dei demoni raccontò il perché loro fossero lì il compito di analise era quello di salvare delle anime dall'inferno inoltre pare che poco prima della nascita di analise una ex vicina della madre di anna avesse maledetto il frutto del suo grembo durante la prima fase degli esorcismi nei primi mesi analise tenta di continuare la sua vita e quindi di vivere ancora nel dormitorio universitario fa avanti indietro dall'università a casa mercoledì 3 marzo del 1976 il mercoledì delle ceneri analise smette totalmente di mangiare spiega che ciò l'è proibito dai demoni da metà aprile analise non riesce più a dormire da sola in dormitorio dal momento che le crisi sono così frequente e violente che sbatte sempre la testa contro il muro ogni sera e contro i pavimenti una delle sorelle decide allora di trasferirsi in camera di analise per aiutarla a mantenere una parvenza di normalità mai tutto inutile ben presto le sue condizioni fisiche sono così precarie che si trasferisce a casa dei suoi genitori definitivamente abbandonando per sempre il suo futuro una volta a casa analise alza ancora di più l'asticella spinge il suo corpo oltre il punto di non ritorno fa anche 600 genuflessioni al giorno a convulsioni continue si morde profondamente graffi autolesioni sono servite al posto del pane quotidiano un giorno si rompe un dente tentando di scavare dei buchi nel muro a morsi per questo nelle sue ultime settimane viene contenuta a letto viene legata con delle cinghie per impedire che faccia male a se stessa e agli altri perché è molto aggressiva è molto pericolosa padre ernst alt racconta due episodi molto particolari in uno lei afferra un barattolo di acqua santa di san damiano e lo scaglia contro padre renze il barattolo si ferma in aria per un momento e poi cade sul pavimento altre volte invece nel corridoio prendeva a calci una tazza piena d'acqua come se fosse un pallone ma questa non si rovesciava mai ce l'aveva tanto con sua madre si rivolgeva a lei dicendole sono analise ti afferrerò per il collo e ti stratonerò e poi la schiaffeggiava era molto violenta il suo fidanzato peter che non la lascerà mai andava a trovarla ma non riusciva a parlarle perché lei non voleva se lui le parlava lei si infuriava e diceva solo io ho un cuore di pietra scagliava a terra i suoi familiari le sorelle i genitori peter e questo avvenne fino alla fine lottava con loro dalla mattina fino alla notte senza tregua loro restavano sempre con lei a lottare e a vigliare su di lei esausti peter molto spesso con i vestiti a brandelli la notte prima della sua morte di quella che viene chiamata alla sua ascensione a maria trapassò la porta a vetri del corridoio senza ferirsi la testa e pregò fino all'alba scettici o meno credenti o no non ci importa la storia di analise è uno shock e quello che io vi racconto non può dare la misura di ciò che è davvero accaduto a questa ragazza ma secondo analise i preti e la famiglia qual è lo scopo di tutta questa sofferenza provo a spiegarvelo una domenica analise va a fare una passeggiata con peter ma mentre sono in strada si fermano in una stradina di campagna e scendono per fare quattro passi mentre stanno passeggiando analise sta davvero molto male parla fatica e non può camminare da sola la sorregge peter poi la madre di dio la vergine maria appare davanti a lei e le chiede di camminare insieme camminano per alcuni metri può sembrare incredibile ma questo è ciò che racconta analise e camminano verso un parco la vergine le parla e le dice è una grande sofferenza del mio cuore che proprio in questo momento così tante anime vadano all'inferno le persone devono fare penitenza per i sacerdoti per la gioventù e per il tuo paese vorresti fare penitenza tu per le loro anime affinché non vadano all'inferno peter che è vicino lei non vede nulla ma quello che vede è che analise sembra stare benissimo è in una sorta di estasi con il viso radioso cammina dritta riesce a camminare qualcosa deve essere accaduto in quella passeggiata la vergine chiede ad analise se sia disposta a restare lì nel suo tormento e ad abbracciarlo fino alla fine questo per salvare le anime di molte persone analise si inginocchia ai suoi piedi ed inizia a pregare e poi improvvisamente riesce a saltare riesce a saltare quando per mesi e fino a poco prima non riusciva nemmeno stare in piedi peter è a muto lieto la riporta a casa e analise sale in camera sua e racconta tutto a sua madre mamma mamma guardami ora posso camminare e saltare posso ballare sai mamma ho visto la vergine madre la madre anna che era convinta della possessione di analise per un momento pensa lo racconta lei ha detto davvero che ha visto la vergine deve essere matta ma analise continua a ripetere si è mostrata a me e ripete molte volte molte anime andranno all'inferno mamma molte anime andranno all'inferno la madre anna chiede ma dov'è peter perché il ragazzo non c'è analise è salita in stanza da sola ce l'ha fatta in quel momento peter è di sotto nel garage dentro la sua macchina e sta piangendo peter è un po il simbolo di tutte le persone di tutti i familiari i fidanzati i mariti i padri i figli potrei continuare che stanno a fianco e ci metto dentro anche gli operatori gli educatori delle comunità che stanno a fianco a persone che sono profondamente malate e non è semplice o come in questo caso l'ipotesi b è a fianco di persone che stanno vivendo un tormento come una possessione perché la famiglia non so bene la posizione di peter ma la famiglia è convinta della possessione di analise se ci mettiamo nei panni di peter che rimane accanto alla donna chi ama fino alla fine è un ragazzo di 24 anni e vorrebbe un futuro con lei per lui spesso anzi sempre è davvero troppo piange disperato perché non riesce a comprendere il senso di ogni cosa peter è descritto come una figura davvero interessante perché passò tutto il suo tempo con analise era il suo ragazzo quindi la conosceva in una maniera diversa più intima conosceva la sua vita quotidiana camminavano insieme si incontravano al dormitorio stavano insieme loro si amavano e pianificavano ancora un futuro insieme erano convinti che tutto ciò tutto quello che stava loro capitando sarebbe finito un giorno quale calvario deve essere stato per lui stare vicino ad una persona malata o posseduta dipende da quale ottica voi vogliate vederla stava con lei tutto il tempo andava a trovarla durante il periodo in cui stava così male il periodo della sua presunta possessione peter non riusciva a capire bene ad esempio non comprendeva come gesù potesse essere presente nel disegno di analise non riusciva sempre a pensare al frutto che tutta questa storia avrebbe portato come gli spiegavano gli esorcisti temeva il giudizio dell'opinione pubblica temeva di essere calognato eppure rimase pur non riuscendo a parlare ancora oggi di lei negli anni a venire lui non riuscì a parlare di quello che era stato il grande amore della sua vita peter dubbioso inquieto insicuro anche scettico forse ma sempre lì al suo fianco solido e presente l'amava e non le volgerà mai le spalle analise disse a sua madre ho tre giorni per riflettere e decidere se accettare o meno ci penserò questi tre giorni la madre pensò tra sé e sé mio dio è tremendo pensare di dover fare penitenza per così tante anime non è possibile quindi la madre alla fine crede ad analise e corre dal suo marito gli racconta tutto e anche lui crede dice al marito che analise ha tempo per pensarci e sono tutti spaventati e molto tristi analise passa questi tre giorni in camera sua in ginocchio davanti alla croce giorno e notte la madre le dice analise tu non puoi farlo ma lei risponde io posso o sarò anche io colpevole della dannazione di tutte queste anime la madre è sopraffatta dalla paura e pensa che sia davvero tremendo 31 ottobre del 1975 halloween i demoni devono essere scacciati e si tenta un nuovo rito questa volta analise spiega agli esorcisti che la vergine maria avrebbe dato una prova della sua presenza e che quindi sarebbe arrivata lei durante l'esorcismo e li avrebbe scacciati tutti sono tutti tremendamente tesi e attendono quel giorno perché è un giorno diverso e anche la scelta del 31 ottobre non è un giorno a caso la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre chiaramente una notte molto particolare anche perché il primo novembre è il giorno dei tutti santi padre renze inizia il rito molto presto alle 22 di sera intima ai demoni di uscire perché questo ordinato la madre di dio i demoni quella sera sono resti sono riluttanti non rispondono con la solita spavalderia e i preti rimangono molto sorpresi sembrano fiacchi deboli come paralizzati e questo non è mai successo prima si limitano a ringhiare e a mormorare tutti i presenti si domandano che cosa sarebbe avvenuto dopo finché padre renze ordina loro di uscire subito uscite ora io ve lo ordino per un po non ci fu risposta ma poi essi risposero noi non usciremo padre renze allora ordinò di iniziare a pregare la madre di dio e ordinò di salutarla e di cantare il magnificat dopo appena due righe di canto i demoni iniziarono a urlare sta arrivando sta arrivando con delle urla davvero agghiaccianti disumane ci sono le registrazioni quindi non mi sto raccontando delle delle fabole potete ascoltarle i presenti quindi gli esorcisti capiscono che sta avvenendo qualcosa i loro capelli si drizzano in testa non hanno mai udito e mai più udiranno una cosa del genere dissero che nessuno poteva emettere tali suoni inenarrabile davvero perché io li ho ascoltati con le cuffie a quel punto gli esorcisti si inginocchiano per salutare la madonna che non possono vedere ma che comprendono è lì in mezzo a loro padre renze chiede chi esce per primo flashman il prete dannato fu il primo ad uscire gli chiesero chi sai e perché sei l'inferno e lui risponde sono dannato perché ho compiuto i miei doveri malamente ora devi andare all'inferno si sai cosa devi dire gli chiede l'esorcista si e urla ancora più indemoniate allora l'esorcista gli chiede più volte il segno di uscita cioè il demone deve recitare l'incipit dell'ave maria un demone infatti questa è una cosa che dicono gli esorcisti non può pregare se dentro al corpo di una persona se la possiede a fatica urlando flashman dice ave maria piena di grazia è il segno e il primo è andato ora chi ha il prossimo renze in calza caino nerone caino anche qui caino si presenta dice io sono caino ho ucciso mio fratello ma la voce è diversa da quella di prima e sono voci vi ripeto maschili laceranti gutturali strane anche a lui viene ordinato di uscire e salutare la vergine maria ma caino non cede caino dice voi luri di maiali non ve ne sareste potuti uscire con niente di peggio ancora gli viene ordinato di salutare la santa vergine e lui cede ave maria piena di grazia è il segno subito dopo poterono iniziare a sentire un senso di sollievo che si sprigionava nella stanza e così e così fino alla volta di lucifero finalmente lucifero si rifiuta di uscire glielo ordinano sempre nome della vergine gli chiesero di spiegare anche lui perché fosse all'inferno ed egli rispose perché volevo governare io stesso il mondo sebbene fossi solo una creatura non volevo servire lucifero combatte si nega dice tante volte no e tante volte dice di non voler uscire ma alla fine anche lui con l'orgoglio nella voce balbettando a stento salutò la vergine maria ed uscì dopo la sua uscita pregarono e cantarono un canto appropriato cioè il grande canto d'adorazione alla madonna ora nelle registrazioni a questo punto si sente una voce diversa provata roca ma femminile come se si fosse risvegliata le chiedono sei felice e analise risponde sì mi sento completamente diversa e tutti sentirono questa inspiegabile sensazione di pace di sollievo analise era lucida e continuava a ripetere ora sono finalmente libera sono completamente libera scelgono a questo punto una preghiera nel libro per sigillare la liberazione di analise hanno appena iniziato a cantare una lode alla vergine quando si sente un urlo agghiacciante poi un rugito sono passati solo dieci minuti dalla presunta liberazione di analise e i demoni sono tornati analise non risponde più i demoni dicono noi vogliamo uscire ma non c'è permesso gridano questo agli esorcisti e i preti non lo comprendono non capiscono cosa sia accaduto abbiamo fatto un errore i demoni continuano ad urlare che loro vogliono uscire dal corpo di analise ma che non è loro permesso gli esorcisti allora comprendono che deve esserci un disegno che deve esserci una ragione deve esserci una ragione se l'esorcismo non funziona ora secondo l'opinione degli esorcisti perché tutto quello che io vi ho appena raccontato non è ciò che penso io o non importa questo è quello che gli esorcisti hanno raccontato allora secondo la loro opinione l'esorcismo non è andato a buon fine per una semplice ragione perché analise si opponeva con il suo martirio analise avrebbe salvato molti animi e quindi alla fine la ragazza aveva scelto molti credono in questo ci si può credere oppure no ma sicuramente non tutto quella scienza riesce ad essere spiegato analise quando si riprese un po disse queste parole non avrei mai pensato che potesse essere così orribile pensavo tra me e me voglio soffrire per le altre persone perché non vadano l'inferno ma non che fosse così orrendo difficile terribile alle volte pensi soffrire è facile ma quando diventa veramente duro non vuoi fare un singolo passo ti privano della volontà di fare qualsiasi cosa padre ma io ho detto sì è normalissimo avere dubbi e essere scettici ma chi era lì crede davvero alla possessione di analise e anche sul perché i molti esorcismi di liberazione non ebbero alcun effetto sulla giovane ecco ora vi preciso che durante gli esorcismi analise fu quasi sempre affiancata anche da un medico un uomo di scienza il dottor richard rot la prima volta che conobbe analise lei sbatteva la testa al muro da giorni e aveva frantumato un vetro con la faccia poi ve l'ho già detto l'era saltato via anche un dente davanti era lacera e contusa quel medico che era un medico di scienza ma non rifiutava l'idea della possessione rimase sconvolto perché per la prima volta si trovava davanti a qualcosa di diverso gli chiesero se analise potesse assumere le medicine in quel momento per calmare il dolore ma il medico rispose che non poteva prescrivere nulla ad analise in quel momento perché analise era posseduta secondo lui non sapeva come le medicine avrebbero influito su di lei disse che contro il diavolo non esistevano iniezioni pochi giorni dopo l'esorcismo e dopo la comparsa della vergine maria notarono in analise delle stranissime ferite sulle gambe che chiamarono stimmati erano effettivamente molto simili alle piaghe riportate da gesù sulla croce anche la madre anna le vide disse che comparvero all'improvviso una mattina analise non riusciva più ad inginocchiarsi la croce come ogni giorno e verso sera parvero anche sulle mani ma quelle sui piedi sulle gambe erano davvero terribili la ragazza aveva gambe e piedi gonfissimi sembravano e avevano un aspetto in tutto e per tutto di ferite prodotti da un chiodo richard rot rimase come medico sempre a fianco di analise ma analise non venne aiutata in maniera incisiva a livello medico cioè non venne portata in ospedale non venne alimentata forzatamente in compenso i presunti demoni continuarono a tormentarla la tormentavano costantemente tutti erano convinti di questo analise era sempre più emaciata magra sfinita non si alimentava più e non beveva poi di quello che all'improvviso ingurgitava anche due litri di succo e mangiava delle banane chiaramente subito dopo vomitava tutto perché non mangiava per giorni e giorni e giorni poi beveva anche due litri di succo e padre erst alt disse anche per questo che mai venne in mente nemmeno per un secondo che analise potesse morire di fame di inedia i mesi passano e analise continua a ripetere che il mese di luglio avrebbe portato con sé un cambiamento e tutta la famiglia è in trepidazione la situazione della giovane continua a precipitare ben presto non riesce più ad alzarsi dal letto nemmeno a lavarsi non parliamo di alimentarsi è un guscio vuoto sul letto che aspetta solo la sua fine non viene ricoverata in ospedale non le vengono date delle particolari cure mediche per sostenerla non vengono chiesti altri consulti è emaciata irriconoscibile stravolta il 30 giugno viene tentato un ultimo esorcismo sulla giovane ma senza risultati luglio è arrivato arriva la febbre e la temperatura sale padre erst alt afferma di aver spiegato la famiglia che quella febbre era strana che la febbre non riguarda la possessione ma piuttosto una condizione clinica patologica magari aggiuntiva ma la famiglia è convinta che si tratti di possessione giovedì mattina esattamente il primo luglio analise spira aveva soli 24 anni vengono avvisati gli esorcisti il medico e padre erst alt il dottor rot si recano dalla famiglia padre erst non crede che analise sia davvero morta ma piuttosto che sia in estasi e che appaia come morta ma il dottor rot dichiara subito il decesso analise è davvero morta dopo dieci mesi 65 esorcismi il calvario di analise è giunto al termine si è compiuto proprio il primo luglio del 1976 come lei aveva predetto nelle sue memorie perché lei aveva scritto che il primo luglio del 1976 sarebbe accaduto qualcosa allora questa potrebbe essere vista come la vittoria degli spiriti maligni su analise gli esorcisti dicono no almeno a prima vista secondo loro è l'opposto essere rimasti dentro di lei fu la loro più grande sconfitta perché in realtà secondo questa teoria è analise ad aver vinto ma veniamo ad altri fatti il corpo di analise è scheletrico al momento della morte pesa soli 33 kg per un metro e 66 di altezza arriva un altro medico medico di famiglia sempre per rilasciare il certificato di morte ma quando vede analise informa subito l'ufficio del pubblico procuratore di non poter certificare un decesso per cause naturali perché quelle non sono cause naturali l'autopsia dichiarerà una morte per inedia e malnutrizione cioè analise è morta di fame di che che sia cioè una sindrome da deperimento in più altri fattori tra cui una polmonite che aveva ulteriormente peggiorato il suo quadro dopo due mesi si apre il processo contro gli esorcisti il medico richard rot e la famiglia sono tutti accusati della morte di analise e di abbandono di incapace la situazione di padre renze è particolarmente delicata e seria viene isolato e aditato come un rappresentante della dottrina medievale lui cerca di spiegarsi ma viene lasciato solo da tutti anche da coloro che a quanto pare avevano autorizzato l'esorcismo non riesce a dialogare con i nuovi teologi del tempo non riesce a spiegare che cosa hanno fatto e tutti si discostano dalle sue azioni i nuovi teologi negano l'esistenza del mondo spirituale del male e il significato espiatorio della morte di analise cosa di cui è fermamente convinta la famiglia ancora e anche i preti che l'avevano affiancata nel suo cammino di sofferenza e ciò che addolora davvero questi preti è quello che raccontano non sono tanto le accuse e il loro futuro ma il fatto che il messaggio di analise si perdesse che la sua morte non avesse un significato per il mondo si sentirono distrutti e ridicolizzati e anche traditi dalla stessa chiesa che negava ciò che loro avevano visto e toccato con mano il perito del policlinico neurologico consulente del pubblico ministero invece dice un'altra cosa testimonia che analise invece soffriva di un disturbo epilettico e a causa del trattamento farmacologico questo disturbo era sfociato in una psicosi paranoica e che in uno psicotico paranoide ci possono essere proprio dei tratti marcatamente legati al mistico ed esagerati in tal senso così come fasi depressive e maniacali con forte aggressività e manifestazioni estreme quindi questo deterioramento di analise era cerco di spiegarmi il frutto di un'autosuggestione e di una perdita definitiva di controllo inoltre vi era una condizione di grave anorressia non diagnosticata secondo questa testimonianza tutto poteva essere risolto poteva essere evitato bisognava innanzitutto consultare un medico alimentare forzatamente analise fornirle adeguata assistenza psicologica e farmacologica analise inoltre non era in grado al momento di discernere e quindi la sua volontà non doveva essere più presa in considerazione chiaramente per salvarle la vita da che lato quindi la vogliamo guardare spiegazione medica e psicologica analise epilettica e successivamente sviluppa una grave forma di paranoia la sua è una patologia farmaco resistente quindi i farmaci non le fanno effetto evento raro ma possibile ve lo confermo poi abbiamo l'ambiente in cui è cresciuta che ha creato delle suggestioni mistiche e religiosi in analise lei si è davvero convinta di essere posseduta analise infatti è cresciuta con una rigida educazione cattolica di stampo fortemente patriarcale basata su precetti morali molto rigidi e sul concetto di colpa e di timore quando arriva ai 16 anni a differenza di molti adolescenti ad analise non è concesso sfidare attraverso una sana ribellione il mondo e la famiglia cosa che avviene l'unico modo in cui poter ribellarsi in maniera potente esplodendo però fu quella di calarsi nel ruolo della posseduta essere una posseduta quindi era un ruolo in cui lei si riconosceva e l'unico ruolo in cui lei poteva tirare fuori tutto dire le cose più scurrili imprecare denigrare la chiesa i suoi genitori e tutta la cultura che l'aveva soffocata signori miai lei conosceva molto bene la storia della chiesa e della dottrina cattolica in maniera molto precisa quindi le cosiddette confessioni dei demoni in realtà sono cose che lei aveva appreso e imparato nella sua abnorme e impressionante cultura in merito fin da bambina è ossessionata dal concetto di espiazione dei peccati che l'aveva portata fin da piccina a dormire per terra per le colpe degli altri per le colpe anche della madre e del frutto illegittimo del suo grembo a un certo punto è netta quindi rifiuta l'ambiente medico e si rifugia nel solo modello che conosce la chiesa cattolica inoltre le dieta il suicidio al quale lei stessa ha pensato più volte e l'unica soluzione è una morte lenta e dolorosa quindi in quest'ottica analise si fece morire di fame lentamente a partire dalla pasqua del 1976 e poi non ve le stramazzo più perché è tanta roba clinica però vi dico un'ultimissima cosa per essere veramente molto precisa la sua diagnosi finale fu questa psicosi paranoide allucinatoria da epilessia sopraggiunta anche a fattori psicosociali presistenti determinante l'auto identificazione paranoica con il ruolo di posseduta ok la posizione della chiesa invece fu diversa ovvero loro credevano a una possibile idea di possessione demoniaca analise per loro era probabilmente posseduta nel 2005 hanno anche ammesso che il rito dell'esorcismo maggiore potrebbe aver contribuito alla morte della giovane ma chiaramente in maniera indiretta e non è mai stata presa una posizione precisa in merito ad una reale possessione di analise della chiesa infine vi cito anche la spiegazione mistico religiosa ve la spiego perché questa spiegazione è entrata a pieno titolo nel film l'esorcismo di amici rose che è un film molto ben fatto e quindi siccome è stata citata ed è una teoria che appoggia l'idea di possessione ve la spiego ma è molto complicata spero di farcela questa spiegazione è stata cognata dall'etnologa americana felicity goodman lei dice che in tutte le religioni esiste il fenomeno dello stato di coscienza alterato cioè non solo nella religione cattolica ma in tutte le religioni del mondo questo stato di coscienza può essere positivo o negativo e ogni individuo è diversamente portato al raggiungimento di questo stato c'è chi lo è di più e c'è chi lo è di meno c'è chi è più sensibile e chi meno analise era molto sensibile in questo senso se questo meccanismo è positivo noi stiamo parlando di sinergie a livello del cervello se questo meccanismo è positivo agisce in aria del cervello che sono deputate al piacere ok e tutto va bene ma se è negativo raggiunge l'area del cervello deputata ai meccanismi punitivi un segno specifico di questo è la glassolalia ovvero il parlare in lingue o in vocalizzazioni con particolari ritmi e melodie e secondo felicity goodman la stessa vocalizzazione è presente nelle registrazioni audio degli esorcismi di analisi noi stiamo parlando di sinergie del cervello e il nostro cervello è un territorio inesplorato quindi siamo capaci utilizzando altre aree del nostro cervello di cose che nemmeno ci possiamo immaginare questo è il succo cosa dice la goodman che ogni religione ha un meccanismo per spezzare questa sinergia negativa la chiave della religione cattolica è il rito dell'esorcismo cioè il rito dell'esorcismo è la chiave però ogni religione ha i suoi meccanismi io non conosco quello delle altre religioni ma la religione buddista ha il suo meccanismo eccetera eccetera il violento shock psicologico che causa l'esorcismo serve proprio a riportare questo stato di coscienza dall'aria della punizione a quella del piacere cioè praticamente lo shock che causa l'esorcismo porta in equilibrio a questa situazione stiamo parlando lo ripeto di sinergie a livello cerebrale questo avviene in analisi quando effettivamente tutti i demoni escono dal suo corpo cioè lei ritorna in asse ma ci fu un problema non considerato cioè l'effetto dei farmaci che analisi assumeva questi erano farmaci che in qualche misura sedavano analise e impedirono la reazione cerebrale che l'esorcismo promuoveva quindi bloccarono questa reazione e il cervello di analisi non reagì in maniera positiva la situazione di analisi peggiora così tanto che lei non riesce più a deglutire e quindi non riesce nemmeno più ad assumere un farmaco in particolare che le causa un'astinenza inoltre i farmaci le distrussero anche i globuli rossi questo venne detto si creò questo squilibrio impressionante e a causa di tutto ciò analise cedette morì ovviamente non stiamo assolutamente dicendo che i farmaci non debbano essere presi attenzione io vi sto raccontando la storia di analisi e le varie teorie che vennero dette non voglio che passi un messaggio sbagliato il lavoro di felicity goodman venne elogiato ma anche ampiamente screditato come privo di fondamento però visto che è stato e vi invito a rivedere il film se volete che è stato citato nel film anch'io l'ho voluto riportare spero di essere stata chiara me lo auguro tiriamo le fila la stampa e l'opinione pubblica negarono in maniera categorica l'idea di possessione di analisi e ancora oggi in germania è molto difficile parlare della sua storia perché c'è questo atteggiamento negativo verso l'aspetto trascendentale verso la realtà degli spiriti maligni le persone ne sono terrorizzate d'altra parte molte persone ne furono anche affascinate a cominciare da coloro che produssero i libri le ricerche e i film sull'argomento e sulla storia di analisi in particolare però i più preferiscono dimenticare questa storia che comunque scatena anche nel meno credente nel più scettico nel più attaccato alla concretezza e la realtà dei dubbi e degli interrogativi comunque parlare del diavolo genera ansia insicurezza e avversione anche per gli stessi cristiani e per questo molte persone hanno preferito cancellare e dimenticare la storia di analisi secondo il vecchio testamento quando una persona muore quando una vittima muore dalla sua morte le persone possono ottenere l'espiazione delle loro colpe o anche la guarigione dai loro stati di malattia e di tribolazione l'esempio più calzante è gesù cristo che offrì la sua vita sulla croce e mentre per noi la morte è in potenza chi credette al martirio di analisi vide nella sua morte il trionfo della luce sul male tramite il suo calvario in estrema solitudine lei ha portato il suo contributo nello sconfiggere satana questo è ciò che qualcuno crede padre erst alt viene intervistato da anziano molti anni dopo ed è ancora convinto fino anche al giurare che lei credesse davvero e non ha mai avuto alcun dubbio sulla possessione reale di analisi a questo mio racconto mancano molte parti ora io non so esattamente che cosa vi metterò ma comunque mancheranno sicuramente le foto più terribili e le registrazioni audio che potete comunque trovare ci sono le foto di analisi e ci sono le registrazioni durante i dieci mesi gli esorcismi su analisi sono state registrate 51 cassette ma nessuna di queste registrazioni è stata messa come prova in tribunale non sono state ascoltate il tribunale tedesco giudicò colpevoli la madre il padre gli esorcisti non so se anche richard rot e presero sei mesi per abbandono di incapace l'idea di possessione non venne assolutamente accolta non vennero aggiunte le registrazioni alle prove nonostante analise da tempo rifiutasse di nutrirsi nonostante molti testimoniassero che ella parlasse con voci maschili diversificate fra loro e lingue morte come il greco antico l'aramaico il latino e erano lingue a lei sconosciute non ne aveva una padronanza ora iniziano tutti i miei nonostante quindi nonostante lei avesse questa forza sovraumana e facesse a pezzi ogni oggetto sacro nonostante avesse piaghe incurabili nei punti della passione e nonostante conoscesse la storia di questo personaggio storico flashman che nessuno conosceva un personaggio però realmente esistito di cui persino la chiesa ignorava quasi del tutto la sua esistenza nonostante la sua morte fosse avvenuta il giorno esatto in cui lei lo aveva predetto quindi il primo luglio e nonostante tutto questo l'ipotesi della possessione venne abbandonata perché secondo il giudice la giuria e l'opinione pubblica c'erano delle spiegazioni reali e concrete a tutto ciò per il tribunale tedesco analise era profondamente malata per gli esorcisti la famiglia era posseduta il caso scatenò chiaramente una valanga sulla chiesa tanto che teologi e vescovi tedeschi chiesero di abolire la figura dell'esorcista e anche il rituale chiaramente ma papa paolo sesto si oppose ignorata le richiesta e il vaticano si limitò a farsi passare i dossier su analise mentre il silenzio scendeva sulla sua storia per 20 anni la storia di analise scivola nell'oblio fino a quando nel 1997 20 anni dopo vengono rese note le rivelazioni dei demoni emerse dalle audiocassette io non so perché ma ve l'ho preciso per completezza nel 2015 2016 quindi la notizia più recente sono state formulate delle accuse di abuso sessuale su i due preti esorcisti nei confronti di analise michel dal commissario per gli abusi nella diocesi di woodsburg quindi non so perché o per come è stato chiesto di fare maggiore chiarezza e se verrà fatta maggiore chiarezza bisognerà anche valutare l'ipotesi dell'abuso sessuale sulla giovane analise dopo la sua morte venne fatta costruire una cappella consacrata dal padre di analise in una proprietà privata vicino al cimitero della loro città qui i genitori ricevevano pellegrini da tutto il mondo che venivano ad adorare analise come una martire e una santa dopo la morte della madre la cappella cadde in disuso e venne chiusa si dice che nella cappella di san damiano sia affissa una foto di anne leece qui in italia la sua tomba è ancora oggi meta di pellegrinaggio e adorazione questo video è stato particolarmente difficile per me perché è molto difficile spiegare una storia così complicata con vedute così diverse ho cercato di portarvi chiaramente una realtà oggettiva dei fatti di raccontarvi tutti i fatti in maniera scrupolosa dettagliata ma oggettiva quindi come esterna io lascio a voi le vostre considerazioni come sempre nel rispetto più totale del pensiero di tutti una cosa la possiamo dire questa storia è davvero sconvolgente il prossimo caso che vi porterò sarà anche quello molto particolare scelto proprio per questa settimana di fin ottobre sarà un caso su stregoneria streghe salute mentale sicilia e già vi sto dicendo troppo su un fenomeno molto affascinante che nei secoli è accaduto ovvero l'isteria di massa un video molto particolare molto molto a tema periodo vi ringrazio come sempre per la visione noi ci vediamo ogni martedì alle ore 20 al prossimo video